di questa edizione del telegiornale con la pallavolo perché cresce il numero di giocatori della Sir Safety Conad Perugia impegnato nella preparazione di avvicinamento alla nuova stagione che attende i Block Devils, protagonisti in Italia e in Europa, il servizio di Pietro Cuccaro. C'è un'atmosfera particolare quest'anno in casa Sir, una sensazione che non si respirava da parecchio e che nasce dalla consapevolezza di una forza che gli stessi giocatori percepiscono nello scorrere il roster. Una squadra orfana di Atanasiewicz ma che ha conservato Leon ed è stata rinforzata con Rikliczki e Giannelli. A dirlo fra gli altri è uno che sulla carta vedrà poco il campo, quel Dragan Travica che a tutti i costi ha voluto rimanere e che ci ha dato dentro nella prima settimana di lavoro sulla spiaggia del Trasimeno, come dimostra la sabbia che gli è rimasta addosso anche durante l'intervista. Perugia è una squadra incredibile quest'anno, quindi non ci possiamo e non ci vogliamo nascondere dietro un dito. Ci sono sicuramente squadre attrezzate per vincere e noi siamo una di quelle. L'anno scorso ci siamo andati vicino con tutti i problemi che ci sono stati. Credo che quest'anno la società abbia fatto un ulteriore salto di qualità comprando giocatori incredibili. Dobbiamo semplicemente trovare l'equilibrio giusto, abbiamo anche un nuovo tecnico, quindi cercare di assorbire il suo lavoro. È sicuramente un allenatore a cui piace stare molto in palestra e questo è molto positivo. Abbiamo acceso i motori, la sabbia sicuramente è un lavoro propedeutico per prepararci alla palestra e poi di conseguenza gli appuntamenti che contano. Siamo veramente pochissimi e abbiamo cominciato a muovere le ginocchia, muovere le caviglie, cominciare a mettere un po' di benzina con un passo alla volta, con i passi giusti. E niente, siamo comunque molto contenti di esserci rivisti. Oltre a tre dei confermati a Lanza, che si è aggregato a gruppo in questi primi giorni, c'era anche Mengozi, uno dei volti nuovi, che conferma la sensazione dei compagni, superando quella fisiologica prudenza che spesso si intravede nelle dichiarazioni degli addetti ai lavori. Sì, è una squadra che senza nascondersi ambisce ai primi posti in tutti i tornei dove siamo impegnati, perciò questo è inutile dirlo. Dobbiamo essere bravi, umili, fin da subito a lavorare, a creare il giusto gruppo, anche se in questi primi giorni non siamo tantissimi a lavorare, però è importante conoscersi e mettere le basi solide per costruire un gruppo importante, per mettersi obiettivi importanti.